Li sorveglio da settimane e vede l'esercito di Silente, la prova di ciò che le ho raccontato fin dall'inizio, Cornelius. Il suo spangere paura riguarda lei, sa chi? Non ci ha ingannato neanche per un istante. Abbiamo visto le sue bugie per quello che erano, una cortina di fumo per assumere il controllo del ministero. Naturalmente. No, professore, lui non c'è tra niente, sono stato io. Molto nobile da parte tua a coprirmi, ma come è stato puntualizzato, la pergamena dice chiaramente esercito di Silente, non di Potter. Ho incaricato Harry di formare questa organizzazione, e io e soltanto io rispondo delle sue attività. Invia un gufo alla Gazzetta del Profeta, dovremmo farcela per l'edizione del mattino. Dolish, Shekabolt, voi scorterete Silente ad Azkaban, dove attenderà il processo per cospirazione e sedizione. Ah, sapevo che avremmo incontrato un piccolo intralcio. Sembra che tu proceda nell'illusione che io non... come si dice? Faccia resistenza. Beh, posso dirti questo. Non ho alcuna intenzione di finire ad Azkaban. Adesso basta. Prendetelo! Però... Beh... Non le piacerà, ministro, ma non può negare che Silente abbia stile.